Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata. Oggi vorrei farvi un resoconto di come sta andando la prova del calibro ST19 che è contenuto in questo Seagal, nel Seagal 1963. Ebbene questa settimana che ho indossato questo orologio per fare il test che durerà un mese sicuramente è stata una settimana molto positiva per quanto riguarda le performance di questo movimento. È andato sempre bene e devo anche ammettere che con un certo imbarazzo che per quanto riguarda l'affidabilità di questo orologio mi sbagliavo. Ecco ci arriveremo poi fra qualche minuto insomma vi parlerò più nello specifico della prova e di quelle che sono state le mie sensazioni. Ecco sono anche particolarmente contento di avere questa mattina, sono riuscito ad avere il mio mega vintage. Questo è un orologio che mi è stato regalato dal mio suocero giapponese che lo comprò negli anni 70 poi lo regalò al suo al suo papà e poi me lo ha donato a me un paio d'anni fa. Ora questo questo mega non andava bene, c'erano state delle infiltrazioni, c'era della ruggine. Durante il lockdown il mio orologiaio è riuscito a restaurarlo, è riuscito a riportarlo in funzione e per cui insomma sono molto contento di poterlo indossare. Ecco fino ad ora non ero riuscito appunto perché non funzionava ma non era la cronometria dell'orologio era veramente pessima. Detto questo ho fatto un'intervista con Ghiera Urologi, con il canale Ghiera Urologi che è portato avanti da Pietro e in questa intervista ho parlato di quello che credo di quel fenomeno delle televendite che riguarda un po' tutti i canali sia italiani che esteri. Ecco in quell'intervista che vi metto qui sotto in descrizione se la volete vedere dico la mia su questo argomento. Ecco ora torniamo a parlare di questo ST19, di questo calibro che noi possiamo vedere appunto perché c'è questo fondello a vista e possiamo vedere questo che è un Venus di fatto, è un movimento che nasce proprio dal fatto, un movimento che attualmente viene prodotto in Cina ma che riprende in quasi per tutto l'architettura di un Venus oltretutto anche un Venus particolare particolarmente nobile perché ha lo smistamento a ruota a colonne e poi ha anche l'innesto orizzontale e tutto questo è possibile vederlo perché c'è questo fondello a vista e poi perché è un ricarica manuale per cui si riesce proprio a vedere questo bellissimo movimento per quanto bellissimo dico come architettura naturalmente non come rifiniture naturalmente perché questo è un orologio che si riesce a comprare finito con 250 euro. Ora naturalmente io dopo dedicherò anche qualche minuto per quanto riguarda l'orologio tanti di voi cioè qualcuno di voi mi ha detto no ma questo non è il vero non è il vero Seagal 1963 c'è stato anche un canale che si chiama Just One More Watch che ha trovato insomma degli articoli di giornali ha cercato di ricostruire un po' quello che è stata la storia di questo orologio in realtà questo è un orologio che risale l'originale 1963 questo è un rifascimento di quel particolare orologio utilizzato dall'aeronautica cinese che proprio aveva acquistato il proprio questo Venus proprio per la realizzazione di questo di questi orologi per cui poi dopo negli anni 2000 quando c'è stata un po' la rinascita della dell'orologeria meccanica la Seagal si è dedicata anche al a costruire orologi meccanici perché aveva aveva assolutamente stoppato la produzione di calibri meccanici per andare a produrre orologi al quarzo per cui questa è una storia fondamentalmente molto molto giovane ed è una una storia che sinceramente anche difficile da poter da poterla da poterla mettere insieme perché sicuramente la cina non si distingue nel nel riconoscere nel brevettare ecco nel riconoscere le proprie i propri design non riconosce quelli altrui per cui non riconosce neanche quelli interni per cui è veramente difficile dire se questo è un Seagal originale oppure non è originale bisognerebbe capire che cosa si intende anche per originale nel senso che questo è sicuramente un Seagal che al suo interno c'ha l'ST19 cioè il calibro che a me interessa di cui interessa parlare questo è il motivo per il quale ho scelto questo particolare orologio perché ero sicuro di trovarci un ST19 che non fosse modificato chiamiamolo così poi arriverò anche al punto di parlare delle modifiche o delle o di quello che dicono di fare delle delle modifiche che dicono di fare a questo movimento perché a questo punto comincio avere anche delle dei dubbi per quanto riguarda poi lo smontaggio rimontaggio di questo calibro per cui ecco è veramente difficile dirvi se questo è l'originale se esistono un originale tanti di voi dicono che quelli col fondello chiuso sono originali ma insomma sono cose veramente marginali esistono su questi canali cinesi che ve li raccomando delle cioè esistono sicuramente dei dei canali degli orologi che vengono un po certificati come orologi che provengono proprio dall'azienda cioè che proprio l'orologio non solo il calibro viene fatto dall'azienda ma non sappiamo anzi io credo che questi orologi che proprio vengano dall'azienda siano una copia di quelli che in realtà sono stati realizzati prima nei primi anni 2000 sono stati realizzati magari da un'azienda di hong kong che ha avuto ecco quest'idea per esempio questo qui viene fuori da hong kong sky timepiece co ecco questo è un'azienda di hong kong che probabilmente dico magari ha ripercorso magari anche con il benestare proprio della sigal e ha creato un orologio un orologio suo magari col permesso della sigal e poi dopo lo ha non lo so e poi ha creato ecco questa scatola questa scatola qui ma insomma qua veramente non c'è nulla non ci sono documenti certi non c'è assolutamente niente che si possa dire per poter dire che per poter affermare che questo è o non è un orologio falso e poi bisognerebbe anche capire nel mondo cinese che cosa voglia dire un orologio un orologio falso io dico che probabilmente questo qui è il primo orologio con questo design perché è stato costruito è stato ideato da un'azienda comunque esterna di sigal e poi successivamente la sigal lo ha costruito internamente un po come quello che hanno fatto con mercur la in diversi tra l'altro anche il gruppo seico 1881 se non vado errato che si chiama così anche loro hanno realizzato hanno fatto uno studio per quanto riguarda un un seico e ne hanno ne hanno progettato proprio il un nuovo nuovo orologio che si rifacesse un po quel design e poi dopo la mercur ha deciso di continuare a produrre più o meno quell'orologio lì e ha deciso di produrlo lei stessa per cui qual è quello qual è quello falso e qual è quello vero è difficilissimo cioè poterlo poterlo dire allora si potrebbe dire che anche gli odinchi che o in come si chiamano gli alpiniste quelli blu realizzati da odinchi sono sono falsi ma in realtà li ha prodotti la seico per cui è veramente difficile è veramente difficile poter dire se uno è vero o è falso nel momento in cui insomma qua c'è viene l'orologio viene chiamato sigal 1963 in più ci sono in tutto su tutto youtube io parlo di the time teller parlo di just one more watch parlo di tantissimi canali famosi insomma a livello internazionale e tutti quelli e tutti questi utilizzano questo questo stesso orologio quindi di fatto dovrebbero essere tutti copie dovrebbero essere tutti falsi ma allora nessuno l'ha mai fatto presente per cui insomma mi sembra un po che questo discorso del dell'orologio vero o falso lasci un po il tempo che trova in un mondo sapendo che ci muoviamo nel mondo cinese che ha delle regole sue cioè la mancanza che c'è una mancanza di regole assoluta detto questo a me soprattutto in questo canale interessa il calibro perché poi dopo io credo che se una persona ha delle conoscenze per quanto riguarda il calibro il movimento poi può scegliere lei stessa il l'orologio che più gli piace in base insomma a quello che sono le proprie i propri gusti detto questo il questo st 19 c'è una ci sono veramente tante informazioni su internet e ben documentate quindi video anche in lingua inglese ci sono tanti commenti ma realizzati anche con tante fotografie che evidenziano proprio le problematiche di questo di questo calibro ci sono casi in cui ci sono parti in più ci sono delle ditate dentro in altri video insomma io mi sono parecchio documentato non per quanto riguarda il sigar 1963 del quale non me ne frega neanche un granché al di là del fatto che sia anche secondo me un orologio carino a vederlo cioè un design comunque che mai riuscirò a farvi vedere perché comunque è un sicuramente un orologio carino esteticamente ma che non non è che poi mi interessi ecco particolarmente il calibro invece è interessante perché riprende questo vecchio venus e soprattutto perché esce con dei con dei prezzi veramente veramente bassi ora si credeva al perlomeno le documenti i documenti che si trovano le informazioni che si trovano su internet dicono che questo calibro non andava per cui ho deciso di comprarne uno io e di testarlo ora appena appena l'ho indossato appena l'ho messo la parte la parte insomma del segnatempo è sempre andata bene e ha sempre tenuto l'ora in modo in modo corretto ha avuto una buona cronometria però nel momento in cui azionavo il il cronografo l'orologio mi se mi se stoppato per cui insomma ero già da un certo punto di vista avevo dimostrato proprio la mancanza di affidabilità di questo di questo calibro per cui ero già lì che insomma che volevo fare un video dicendo che il calibro non era assolutamente affidabile per cui l'ho comunque ritestato un'altra volta e per un paio di volte due o tre volte quando azionavo il cronografo l'orologio rimaneva rimaneva indietro andava indietro per cui non funzionava anche ho pensato che il cinese che aveva che aveva assemblato l'orologio avesse regolato soltanto la parte la parte del tempo e non avesse regolato l'altra parte insomma perché questi non sono neanche orologi che si che si assemblano così facilmente come vi dicevo è un movimento anche complesso nobile allo stesso tempo complesso anche nella regolazione l'innesto orizzontale necessita proprio di una certa manualità anche nella regolazione perché non deve essere le ruote non devono essere troppo serrate non devono essere troppo lasche nell'innesto verticale come c'è Rolex e Daytona è molto più è molto più semplice questo per cui naturalmente o ero avevo ormai la certezza che l'orologio non funzionasse avevo ormai avevo insomma avevo fatto la prova empirica che il questo movimento non funzionasse però comunque sia vi avevo detto che l'avrete stato per un mese per cui ho continuato ad approvarlo ora quello che è successo è qualcosa di incredibile a un certo punto ha iniziato a funzionare io lo lascio anche col cronografo innestato quindi di per sé dovrebbe avere meno la sicuramente le performance dell'orologio dovrebbero venire a dovrebbero essere infisciate insomma da questo da questa funzione eppure sono le 4 e 33 e qua insomma sono le 4 e 33 per cui l'orologio è assolutamente la parte insomma la cronometria è assolutamente buona ora io non è che sto a fare il test se questo supererebbe la certificazione COSC oppure no io so soltanto che questo è un orologio che può essere tranquillamente utilizzato e l'ho utilizzato ormai da sei giorni mettiamo che il primo giorno ha dato dei problemi poi a un certo punto ha smesso di dare problemi ed ha cominciato a funzionare ora secondo me il motivo per il quale questo è avvenuto dipende proprio dal fatto che non era l'orologio forse è stato fermo per tanto tempo per cui essendo stato tanto tempo fermo probabilmente anche l'olio non era non era distribuito su tutti gli ingranaggi nel momento in cui ha cominciato a girare probabilmente questo è andato è andato poi a regime insomma l'orologio ha cominciato ad avere effettivamente delle buone performance ok a questo punto vi saluto e eccoci riproviamo insomma ci risentiamo tra qualche tempo vi faccio sapere insomma come sta andando questo questo orologio nel mentre se il video vi è piaciuto mettete un like come sempre se lo ritenete opportuno iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima puntata ciao a tutti